Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano due chilometri di coda per un incidente adesso risolto, tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncopilaccio fino al 28 febbraio. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A1 tra Firenze Scandicci ed Arezzo, in A11 tra l'allacciamento con la 1 e Pistoia e sulla FIPILI tra Firenze e Montelupo Fiorentino. A Firenze tramvia sempre in funzione durante le festività natalizie. Domani 31 dicembre e la notte del 1 gennaio sarà attiva fino alle 2 di notte. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!